Tra girandone la cuccia Ok ok, tienilo tu sotto tiro, mi avvicino Uno sta facendo il boss Eh, non lo vedo più comunque Aspetta che uno è qua Eccolo Bravo, è uno Deve essere lui quello, quello lì era Il nero, è nero con la camicia bianca, attento Arrivo Sì sì Aspetta che glielo brucio subito Vado a buttare la stick Viene a capire su dove è l'altro È bianco eh O sei allontanato O sei allontanato No è rosso, è rosso, è rosso C'è c'è Attento al barile, allontanati C'è c'è Aspetta eh, occhio È qua, è qua Ok Arrivo Ah, l'ho missato, occhio È lì, è lì comunque Qua È sopra Prova Prova a distrarlo un po' Ah, l'emolatore, cazzo È qua Preso Con l'emolatore, cazzo No, l'ho missato Quanto lo sto missando? Morto Bravo Minchia Molto in cecchino, eh Se ti interessasse Molto in merda Minchia quanto l'ho smirato col crown Enki Sono peggiorato un botto Però se livello è questo Vado sul velluto È qua, eh È bianco, eh Sì Sì, me lo fa luttare Mi raccomando se ci sono altri barili stai attento Perché qualcuno lo ha scelto Pax e Martini Quanta vita c'ha sto boss Aspetta che li do una Uh, mi ha dato una flash Nice No, no, no Con l'incendiaria Perché Almeno Recuperiamo qualcosa Gli bisogno di ammo Urgenti Se no non mi droppa un cazzo Questo Sto sparando con l'epel Ahia Questo ha fatto male Ok Morto, vai Eh, non avrò troppo No, qualcosa ha mollato Uh, si le ammo Ha lasciato di tutto Starto? Sì, bannicelo Che c'ho 50 di vita Bravo Qua le ammo Vabbè dai Un caricatore di crown and king Ce l'ho Devo stare attento a come usare Uh, qua c'è un tratto Sì Un guento per le palle Buono Ok Allora C'ho le concertine Le butto giù Qua ne metto Ok Una la metto qua Una la metto al portone Questo Qua Ma che cazzo Non si rompe il carry on Ragazzi La radio Boh Ma non si rompe più Cazzo Onesto Poi ci sono qua Trappole per orsi Però Tu c'hai già un guento Il corpo a corpo Non si rompe la radio Aspetta Faccio saltare sto barile Occhio Questo qua Ok, ok Metto Un'altra concertina Scusa Sto concertinando la porta qua Ah, l'hai messa Perfetto Guarda Boh Vagato Ah, hai concertinato Ok, bene 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 Eh, due ne avevo Due messe Allora Le metto nelle porte Con la sbarrata Da Ok Una qua Attento qua E una Ci sarebbe la porta in ferro Sì Ci sono anche le trappole per orsi Se ti servissero Però qua Qua c'è un'altra concertina Che ho messo Ah, poi sai anche un'altra cosa Che su pc È molto Molto più utile Giocare con cacciatore E io non ero abituato A giocare con cacciatore Perché comunque Con cacciatore Tu Sai cosa funziona Tu con Maiuscolo Con shift Metti in no scoop E col tasto destro Miri Quindi è più complicato Perché Cosa succede Tu quando ti metti Di fianco ai muri Se no L'arma si vede sempre Allora si mettono Tutti cacciatore Anche perché Sei più rapido Nel muoverti Sì Però io arrivando Dalla play Che praticamente Cioè Tutti usano pistolero Perché è più immediato Mi trovavo anche scomodo E infatti lo dice Una volta Che Dennis e Pseco Con questo giocano Spesso e volentieri Dice che Cacciatore Praticamente È molto più utile Versatile Del pistolero Perché dico Che il pistolero È molto più da nabbi Che cazzo Ho detto ma È vero Però No no È vero È così Però su pc Qui su console Secondo me C'è Il cacciatore È un dito nel culo È il contrario È esattamente il contrario Il problema è che io ero Talmente abituato a giocare Con pistolero Che non me la sono sentita Di cambiare Con cacciatore E quindi L'ho tenuto così E Cioè sai cosa Il gioco è più bello di là Ma se tu Secondo me Devi giocarlo Su una piattaforma E giocarlo solo quella Cioè io sono passato Su pc Però Non Le partite Le partite Sì ma le partite Le partite Che mi faccio qua Che mi facevo qua Sulla play Su pc Difficilmente Riesca a fare Quelle partite lì Che fai wipe Server Come se nulla fosse Ma proprio Mi capiterà Una volta Di morte di papa Poi dipende anche Con chi giochi Però Do un'occhiata Ok Eh non ho visto Niente intorno Curvi Curvi nord est 45 Aspetta Ma le altre taglie Arrivano Arrivano le altre taglie Ok Aspettiamo Curvi da nord est Sì 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 Eh sono le altre taglie Che arrivano Aspettiamoli Ok che hanno la taglia Quindi sicuramente Tireranno a volbengarci Eh ma più che altro Da quella finestra Allora Loro sono a fattoria Sono lì Stanno arrivando Sì Ok Winfield Con levering Probabilmente Vabbè Officer Oh magari avranno Anche l'incendiaria Con levering L'ultima moda Io ho la laymat Con l'incendiaria Tutto l'incendiaria Io so Tranne vabbè Label Bravo Spara Spara Consuma munizioni Mongolo Così Che poi qua Non c'è un colpo Bravo Spara Ha già sprecato Già un caricatore Uno è qua Uno è già qua Oh ah ma c'è la officer Quindi figo C'avrei colpi condivisi Faccio giusto un giro Ok Allora Uno est 90 L'altro nord est 45 Praticamente Uno è nella buccia dei cani E l'altro è nell'assassionata E' sul tetto eh Occhio da qua Sì Ti Mi provo a volbengare Eccolo Sì Si è affacciato lì Al finestrone Attento eh Occhio che ce l'hai davanti Uno eh I know Morto Bravo Ne manca uno Dai Vengo È ferito Morto Ma veramente Ma veramente il livello è questo Ma stai scherzando No non c'è nessuno Bella Bella 4.000 Ma se il livello è questo Torno a giocare davvero sulla play Cioè Allora Al secondo Ci ha provato eh Il camicia blu ci ha provato Ma questo qui È venuto avanti così Guarda Così Mi è venuto a mirarmi Ah ma c'è va la doppietta Bravo bravo Grazie Uno si chiamava Zlatanzio Tipo Rientriamo dentro Cos'è di blu Eh adesso sì Hai una lanterna Il boss ha droppato Volevo bruciarli Sti due cadaveri qua Mi stanno un po' in culo Lasciarli di qua Do un'occhiata Allora No Ho solo un'altra concertina Allora niente Aspetta che vado dall'altra parte Do un'occhiata con la taglia Sicuro c'è ancora gente Guarda eh Attento ok De là devo mettere la concertina Ma lontano a sud ovest 2.25 Ok Può essere un singolo Col cecchino No papere No no Arrivano 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 Aspetta aspetta che rimetto la concertina Alla porta sbarratta È qua eh Ho richiuso Ho rimesso le tagliole Sai dov'è? Nella zona della torre Sì Dalla torre grossa Sì sì Mi ho sparato Dalla torre quella grossa Dalla chiesa Ti sta sparando Quanti secondi hai? Ah ho capito da dove La torre a sud ovest Tu quanti secondi hai? Sì 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 ho capito Quella nuova Eh Minchia è distante da lì Non è vicino Cazzo Secondo me uno si sta avvicinando Però Quale cazzo sono? Springfield? Allora uno è sotto l'albero Sotto l'albero grande E l'altro è nella torre di là in fondo Ok va bene Uno è qua eh Eh aspettiamo che si avvicini un po' Sì sì ho capito Uno dei due dov'è Uno è dietro l'alberone grande E uno c'ha lo Springfield Marksman Sta lontano Questo sta puntando alla finestra Aspetta aspetta audio Arriva Qua Dalla gabbia dei cani Sì C'è punto È qua davanti eh Mi sento Faccio un giro Sono entrambi allora Uno qua Sì sì Sperto E uno ce l'hai davanti Sì sì Audio audio Uno carica il label Cazzo vorrei wallbangarlo Ma non lo vedo Ecco che può lanciare da lì Aspetta Uh che pelo Morto Morto uno Lancia E ce l'hai davanti eh Eh sì è lì fuori È lì fuori Lo pushiamo? Vai pusha pusha Tu pusha Nooo ma perché? Ah Ma perché la granata non è uscita? Vabbè uno è down comunque Cioè l'ho buttato giù e Forse l'ha restato ma comunque È qua eh Aspetta Ce l'ho davanti Sì ok di lì di lì Arrivo All'arnia Ok È scappato È davanti Sì è dove c'è l'albero Dove è l'albero Arrivo arrivo L'ho visto Preso Dietro l'albero ferito È dietro l'albero ferito Avvicinati tu che hai l'arma lunga Vado Si è curato Bravo Ah 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 Uh Bicis Così Sei kill per gradire Ok lo zombie Scusa siete un beccato Uh questo c'ha l'upperkut Grazie Upperkut con le esplosive Va bene Ciao 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 Sparks Questi due qua Adesso ti faccio vedere il primo Come l'ho ucciso Questi due mongoli Guarda cosa hanno fatto Altro stronzone dov'è? Qua qua Questo qua Questo Loro cosa hanno fatto? Erano qui che cazzeggiavano Io da quella fessura lì Mi sono affacciato Vedevo la testa Gliel'ho sparata nel cron Label questo qua